Fratelli e sorelle, vi dico una cosa, eh? Dio non fa i santi in laboratorio, no. Li costruisce in grandi cantieri, in cui il lavoro di tutti sotto la guida dello Spirito Santo contribuisce a scavare profondo, a porre solide fondamento e a realizzare la costruzione, ponendo oggi cura perché cresca l'ordinata perfetta con Cristo Pietrangolare. Questa è l'aria che hanno respirato fin da piccoli Angelo e Giovanni Battista sotto il monte e ha conceso, con tutto il bene che ne è derivato quello che hanno donato e ricevuto.